La ricerca non è qualcosa di lontano relegato al mondo accademico, i cui effetti rimangono confinati all'interno dei laboratori. È invece un modo per comprendere come funziona il mondo. Insomma, la ricerca è vita. Poggia su questa considerazione il convegno organizzato dall'Istituto Omnicomprensivo Antonio Giordano di Venafro, in collaborazione con l'Associazione Paolo Balestrazi. Presso la Palazzina Liberty, gremita di studenti, le speciali lezioni del dottor Pantaleo Romanelli, direttore scientifico di radiochirurgia e consulente presso prestigiose realtà ospedaliere anche all'estero e del dottor Michele Pinelli, ricercatore di genetica medica presso l'Università di Napoli. Motivo di particolare orgoglio per la scuola, il fatto che il dottor Pinelli sia un ex studente del Giordano. Si unisce insieme la solidarietà per quanto riguarda l'azione svolta da Teleton con la ricerca, quindi con lo studio. Il binomio scuola-ricerca è un binomio indissolubile ed è importante che la scuola sia presente quando si parla di ricerca. In particolare in questo convegno sono presenti dei ricercatori che sono proprio della nostra terra, c'è addirittura un nostro ex alunno, il dottor Pinelli, e quindi sono anche un riferimento per i nostri alunni. Un esempio importante su come poi bisogna approcciarsi al mondo del lavoro. E dunque la ricerca è vita, di pari passo è speranza per quanti purtroppo anche bambini sono affetti da malattie rare. Toccante la testimonianza della mamma Coraggio, Palmina Giannini, da 30 anni impegnata nell'attività di sostegno della ricerca. Io ero giovanissima, mi sono capitate purtroppo delle cose difficilissime. In casa sono stata testarda, ho portato avanti un discorso che non veniva per niente considerato. Le malattie rare 30 anni fa, 40 anni fa non esistevano ed era anche una vergogna dirlo, di averle in casa. Io ne ho fatto invece una fonte di lotta, di battaglia, di amore, di vorre il bene al prossimo. Non sono stata lontana e ricudermi nel mio dolore, ho aperto il mio cuore agli altri.